amici di cun company buonasera da riccardo lionetto benvenuti alle trestina stellium di milano questo è il match tra partisan del grado e ritmo tech boys comincia ora in questo momento possesso palla proprio delle partisan e questa sera con un'inedita maglia gialla vediamo proprio orlando leopoldo sulla destra che muove il pallone in direzione di zanon poi all'indietro addirittura da preti diamo iarach cassetta palla per cecala poi ancora la conclusione la parata da parte di preti sul tiro di matti orlando leopoldo che allarga per quai il vantaggio del partito in degrado 1 a 0 vediamo quai che bella palla questa di quai pallone in aria la parata e poi però non è finita ancora orlando leopoldo che viene fermato allora ripartenza da parte del ritmo tech boys largo largo vediamo in aria adesso la lotta tra matti e il difensore vince il difensore ok adesso però alla parte del ritmo tech che sotto per una rete guerra prova al destro giro alto matti che bella la palla questa di matti in profondità il gol il pareggio del ritmo tech boys ha segnato cecala 1 a 1 guarnierio il tocco per frione che allarga per orlando leopoldo che va a calciare la parata e poi poi spara alto occasione per il partizan vediamo rossi rossi che sfonde in aria la conclusione il vantaggio di ritmo tech boys 2 a 1 bella questa azione dice cala palla per guerra poi cecala che calcia la parata di preti è un tiro la traversa e poi la polo rimane lì e c'è il tocco di braccio termina dunque nel primo tempo 2 a 1 a favore di ritmo tech boys sulle parti del grado se per cominciare la ripresa tra parti da negrado il ritmo tech boys 2 a 1 a favore di quest'ultimi che comincia ora secondo tempo col processo palla proprio del ritmo tech boys con riccardo rossi che viene avanti va via un giocatore va via l'altro riccardo rossi che eleganza col mancino pallone ribattuto ok adesso 2 contro 1 matti matti palla dentro per rossi 3 a 1 ripartenza dentro per rossi di ritmo tech boys la palla passa occhio in altra parte però bello il pallone zanon il gol è il tra due che accorcia le distanze che bella partita va col destro la palla passa e poi pallone rimutato in mezzo l'errore clamorosa di frione che da un metro spara alto matti viene avanti matti insiste matti entra in aria matti fuori pallone dentro vediamo zanon che calcio alla parata di perona vediamo adesso che si gira molto bene matti il gol del 42 cross in mezzo la palla rimane in aria e se la cava in qualche maniera h7 per la conclusione alta c'è stata la deviazione dunque sarà corner vediamo ora quai pensa conclusione quai la prova per ora imprecise poi gol l'autorette di yarak clavoroso 4 a 3 riapre dunque il discorso il partito in degrado con l'autogol di yarak diamo ora 4 a 3 dunque che bella gara vediamo matti che calcio e questa volta preti gli dice di no zanon viene fermato occhio alla ripartenza allora guerra guerra uno contro uno guerra prova a passare bravissimo warnerio pallone allontanato recupera ancora la formazione della ritmo tech con cecala che va via cecala il gol del 53 che mette la parola fine a questo incontro 5 3 dunque vediamo adesso la conclusione alla disperata di zanon che non porta nulla perché termina il match 5 33 punti importantissimi per la ritmo tech boys che batte il partito nel degrado dalle tristina stadium di milano e tutto un saluto da riccardo glionetto